Rimini per una sera diventa la City, non solo per la presenza al Palace di Sarah Jessica Parker, stella della serie Sex on the City o per la sfilata su red carpet di celebrità italiane e internazionali. Per l'evento Calzedonia Summer Show Forever Together, tutte le donne presenti sono entrate nelle atmosfere della notte serie tv americana. La protagonista indiscusse è stata comunque la Parker, che ai giornalisti presenti non ha fatto mancare i consigli per affrontare al meglio la prova costume. E' una storia lunga, 26 anni, quella di Calzedonia e di Sandro Veronesi, ideatore del brand, che proprio qui in Riviera ha mosso i suoi primi passi. La magia della vacanza a tutta l'italiana e una buona formula scaccia crisi, queste le motivazioni che hanno spinto il gruppo italiano a festeggiare questa speciale ricorrenza proprio a Rimini. Tanti volti internazionali, attrici, showgirl, modelle e cantanti presenti all'evento, da Kesha e Planet Funk, passando per Simona Molinari, le colonne musicali della serata. Diversi poi figli d'arte presenti, da Telly Lennox, passando a Baldwin, alla figlia di Kim Basinger, tra i tanti ospiti di casa nostra Cristina Chiabotto, Laura Chiatti, Giulia Michelini, Carolina Crescentini, Victoria Guerra, Eleonore Casalegno, Cristina Parodi con sua figlia. In passarella poi le modelle Calzedonia, capitanate da Sara Sampaio, la testimonial della campagna, l'ex velina Federica Nargi e Melissa Satta insieme a Tyson Beckford. Alfonso Signorini e Fiammetta Cicogna invece sono stati i conduttori dello show che per chi non era presente sarà trasmesso il prossimo 6 maggio alle 23 su Italia 1.